Benvenuti nella nuova puntata delle ecopillole di Luca Lombroso, cause e cure per il pianeta malato, offerte in collaborazione con Ecovillaggio Montale. Resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, per esempio la resilienza si applica ai fenomeni meteorologici estremi. Nella nostra zona, in Italia, si sono osservati negli ultimi anni con sempre più frequenza eventi meteorologici intensi, in particolare nubi fragi estivi, ma non soltanto, però posto anche nevicate e anche periodi di siccità. In Ecovillaggio Montale si è aumentata la resilienza di fronte alle precipitazioni intense, convogliando e fitodeporando le acque piovane verso la falda acquifera. Da questa viene prelevata l'acqua necessaria per irrigare il verde, fondamentale per la mitigazione del clima, l'ossorbimento del CO2 e degli altri inquinanti. Si chiude così il ciclo dell'acqua piovana, diventando così più resilienti di fronte ai periodi di maggiore siccità.